Molto bravo, però. 19-1 con Sar... Ma che cazzo? Sì, scusi che non sia uno Smurf che poi inizia a intare, tipo fa... Che ne so, 8-0, poi fa due morti, sta AFC, che ne so. Pare così strano. Vai! Siamo anche nell'altro team, nel team Red stavolta. Siamo contro di nuovo Akali. Non c'è nessun problema. Il graspo è predefinito, dici? Chissà se è nel graspo... Nel graspo è predefinito, non so se c'è il precision secondario, però. Chi lo sa. Stasera fa molto caldo, sarà Vlad che mi ha fatto unire caldo. Vai, Broome. Devi andare te. Il clients, ok. Botte! 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 Sì! Sì! Non c'è nessuno. Sì! Botte! Botte! Eeeeee! Fabio! Fabio! A troia de' merda, dimmelo un'altra volta. Ma era un flash quello da parte di Leona. Raga, vorrei potervi aiutare di più, non c'ho vita. Purtroppo. Era andato così bene, avevamo fatto una kill. Tutto a puttane. Tutto a puttane. All'Aki. Due kill su Akali. Sì, first blow come prima, però Akali non aveva due kill prima. Dobbiamo stare molto indietro. Vabbè dai, ci siano già recuperati. Sì, sì, l'importante è che Vlad si figli. Mem, mem! Vabbè. Aspettiamo. Questa si vede già come si muove, cerca di stare lontana dalle Q. Sembra già un po' più intelligente. A occhio. Ok, l'ho presa. Very good. Tuck. Ok. Tuck. Poi Vlad mi fa concentrare un sacco. Ok, Warwick, ok. Ok. Guarda. Mi ha spaventato quel Warwick, sinceramente. Tranquillo, eh, non ti vede. No, no, no. Ma te ne puoi... Ti puoi levare dal cazzo molto gentilmente? Grazie. Dai! Un millimetro! Mannaggia, un millisecondo proprio. Se non avesse flashato, regà, me la killavo con quella Q. Questo è veramente un peccato. Comunque sì, è decisamente più brava di quella di prima. Un cazzo di millimetro proprio, regà, avete visto? Un millimetro intendo di... Di tacchetta. Di pull down. No, non mi fido per nulla di quello Warwick. Infatti ho molta paura di quello che possa combinarli. Il pick di Halo qual è? È stato Diamond 5, due anni fa. Mo c'ha tre kill. Chissà con cosa torna. Sicuramente avrà... Ha già fatto più soldi... Ha già fatto più soldi con queste tre kill rispetto a tutto... Alla Q di prima in tutto il game. Quello è poco, ma sicuro. Ok. La farm sta anche messa abbastanza bene. Meno male, regà, che domani lo cancellano, sto champ. Ah, forse è per questo che si vedono tante a Cali, no? Forse è per questo che si vedono tante a Cali, ora che ci penso. Eh, ti puoi levare dal cazzo. Per favore. Cosa sta facendo? Io non capisco. Io ho assai paura di sto tizio. Cioè, ho paura che dal nulla di lì faccia qualcosa di... Estremamente stupido. Si è spaventato... No, la paletta di fumo è stato tipo semaforo rosso. Fermi tutti. Sono tipo alt. Ok. Mi fermo. Via. Dai, VV per... Oddio! Oddio, vuoi venire? Aiuto! Ah! Ecco. My bad. Buonanotte, Pantheon. Bravissimo, Warwick ha fatto double kiss. Sei troppo bravo a sto gioco. Secondo me non lo sa che se tiene premuto la Q le va dietro, sapete? Lì la premuta e basta. Una decisione vitale. Ah. Questo VV. Sì, ma Warwick non ha... Cioè, non ha mica cattiva e intensiva. Lì vorrebbe aiutarmi, che non ha la minima idea di come. Lì ha fatto... Cioè, lì potrà risolvere tutto tenendo premuto la Q, andando nella schiena da Kali, piuttosto che... Farla qui, inseguendola per mezz'ora. Punto che io ci sono anche tornato. Vabbè ragazzi, noi dobbiamo scalare in ogni caso. Onestissimo ragazzi, onestissimo. Onestissimo, come le bancarelle dei cinesi. Onesto proprio. Vai, curiamoci e via. Ragazzi, state attenti. Mmm, potrebbe arrivare gente. Ok, quella era l'Ossian. Semplicemente full sustain, quella. Ah, un sustain della Madonna. Andiamo a prendere la Scrotobelt. Forse vorrei rormare subito in bot lì, dopo aver fiusciato. Alla chi? 0-0-5 la di Kerry, oddio. E 1-0-4 quell'altro. Ma le kill, chi le prende? Eh, mi sa che le prendono a Kali e il Jung. Sì, ma Kali è il Jung. Non è da kill. Lei ce l'ha già la Gunblade? No, ma a sto back se la fa? Mamma mia. Gli ha sentiti, ragazzi, danni. Ve lo dico io. Io dico che li ha sentiti. Ecco qua. Un po' di pulizia, un po' di sana pulizia ci vuole sempre. Io devo dire che è stato un discreto l'inne. C'è da dire. Back. Prendiamo Magic Pen. Ecco qua. E andiamo. La Kali non torna. Attenzione. Attenzione. Uh. Buono, buono. Ottimo. Ottimo. Potrebbe tornare con me, tipo adesso. In teoria. Dove è andata? Eccolo lì. Lo so. Sapevo che sta andando top. Palesi che sta andando top. Uh. Domani rip a Kali, sì. Esatto. A me sinceramente non faceva impazzire come champ, quindi... Boh. Ne sono abbastanza felice, possiamo dire. Anche perché dà molto, molto fastidio. E poi non c'è. E poi non c'è. Ho... Under my skin. Mmm. Rip a Kali, but why? La Q non la cura più e la W non la rende più immune alle torri. E le aumentano anche il cooldown dello W, di due secondi. Dai, sei disonesta. Sei disonesta, cazzo. Sarei fullata, l'avrei shottata lì. Allà. Ah. Un attimo, c'avevo lo scrotto un po' così. No, come ha fatto a missarne due work di ulti? Oddio, l'attacco ha fatto gol, ragazzi. Dunque. Fate un altro pensato. Di Morello diretto contro lei. Ebbè, potrebbe essere un'ottima idea, effettivamente. No, ho preso la contro, vabbè. Scrotto? La scrotto belt, clapperone. Questa è la scrotto belt, vedi? C'è scritto scrotto belt. Zero, uno. Un minio ne ha fatto a scudo a quell'altro. Mamma mia, che fastidio. Ah, non ci viene. Ok. C'ho la ulti tra poco, potrei shottarla. Tasty. Usciamo. Che leve, è callato. Arrivo! Hello? Possiamo farci questo. Vai finché non c'è Cali. Oddio, però abbiamo lo smite di Warwick. Oddio lo smite visto Warwick. Devo ammettere che ho assai paura. C'è un'altra cosa che ho assai paura. Bravo, mannaggia, chi so io. Ah, 0-7 stanno andando a mia botte. Ma cazzo, la prima stava 6-0 questo. Perché ma 0-4? Peccato. Ok, ragazzi, ok. Qualsiasi cosa stiate scrivendo in chat perché non capisco, ma non impor. Spero non è la top, sinceramente. Hai ragione, Ammon, hai ragione anche te. Però prima io sono partito con una kill a Kali nemica 0. No, con una double kill. Stavolta nell'invedio ho preso una kill e a Kali nemica 2. Mentre a Kali dell'altro game è partita succando il cazzo e basta. No, 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 no. Ok. Sentivo già puzza di still, ragazzi. Ma sentivate anche voi la puzza di still? Guarda solo una mia impressione. Che fa quella matta? Dove andare back io, ragazzi. Andiamo back. Non ho mai provato The Witcher 3. Ok, non lo puovi? Oh, oddio. Arriva Kali di asfalta. Niente. Vediamo un po' di quanto ci muoiono. Oddio, una kill per noi. Oddio, incredibile. Oddio, ma Warwick sta a 6-2, ragazzi. Noi abbiamo perculato all'inizio. E sta risultando l'MVP della partita. VV MVP, ragazzi. Sono una principessa. Ottimo. What? Flash Igniter è di nuovo sparita. Unlucky bitches! Comunque è partito anche lì al Djinx, oltretutto. E non so se è anche l'Igniter. Però va bene. Unlucky bitch. Sono un unlucky bitch. Andiamo di Monello. W mi dà Move Speed, vero? No, apparentemente no. È una mia impressione che mi dà Move Speed. Quello WV ma tocca essere. Fammi vedere. Cazzo. Inizia con la M, potrebbe essere lui, effettivamente. Sì che mi dà Move Speed. Oddio. Che cazzo è stato? Monello! Il Monello. Grazie, sei spregato di non spammare. Anche perché non capisco che cazzo scrive. Eternal vai. Procedi. Procedi, procedi. Cosa stanno facendo i miei alleati? Beh, io non devo concentrarmi sulla chat. Io c'ho la nostra fissa di leggere la chat. Della quale non dovrei fregarmi in un cazzo, effettivamente. Ok, ok. Vai, Matte! È Matteo Kess, ragazzi. È lui. È Matteo, ragazzi. È lui. Opened. È ok, ragazzi. È ok. Ci va benissimo così, direi. Perfetto. Un timo, ragazzi. Prima volta che lo vediamo. Opened. No! Ai! Oddio, Fabio. Vado back. Salumi a tutti, abbondantissimi. Festival del San Merdo col fidanzato. Cosa? Va bene quello che dici te, Anita. Va benissimo. Vediamo di Ability Power ignorante. C'è il Festival, c'è San Merdo. C'è proprio San Merdo, ragazzi. Che schifo, San Merdo. La gente che guarda San Merdo, io proprio non la capisco. Vergogna! Vergogna! Poi un titolo così, cioè impariamo a giocare. Ma cosa volete di più dalla vita, mi chiedo io. Eh, scusate. Un champ da reworkare. Eh, sì. Vorrei che reworkassero il channel e lo riportassero come era nella season 5, grazie. Quello è un bel champ da reworkare, per quanto mi riguarda. Sì, Akali. Ma lei è riuscita dalla base sbagliata, così a occhio. Così a intuito. Allora. Oh, sono lì. Mmh. Mmm... E' questi?! Da dove sono usciti?! Ma che cazzo... Incazzati neri, ma hanno gesto... ma che cazzo... Vabbè... Ottimo flash... Niente ragazzi, ucciso dai pappagalli... Che triste fine... Calculated... Se Giovanni l'ha fatto... E Giustani si sono incazzati... Quello già picchiato, vabbè, ammazziamo tutti, coglioni! Han beccato il Vlad con un HP... Mmm... Mmm... Full magic resisti ragazzi, ma fa anche bene... Dovrei prenderla anch'io la visage... Magari sto... Dai, stavolta me la faccio... Oddio, forse la penetrazione è meglio eh, però... Dai, mi faccio la visage dopo in caso... Dopo il Rabadon, ovviamente... Una cosa alla volta... Bastardo... Volevo vendicarmi dei pappagalli! Under la mia pelle... Ma farei una battuta, lasciati i fake... Dalla sua risposta non capisce se sia sarcastico o critico... Ma chi io? Non lo so, dipende dal momento... Ha ha! Eh... Malati di Twill... Solite... Ah, su... C'è una troia là dietro... C'è una putana! Putana! Sta troia col morello... Monella! Sei una monella! Qua sta succedendo in mid, ragazzi... Din 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 din... Ok... Va! Oddio, tutta sta gente dove è usci... Oddio Fabiè! Oddio Fabiè! Fabiè! Ma che cazzo... Mi stavano pushando la T2 in mid? Non le piace più? Mamma mia! Hashtag teamplay, ragazzi! Hashtag teamplay! Antes di equiparli... Che schifo la mid, meglio la botto! Obiettivi, meglio le kill! Eh già! Beh dai! L'attore è l'attore è l'attore! Ecco! Esatto! Dai, Matte! Matteo che esce! Sì! Guardalo, guardalo! Che uomo! Che giocatore! Ecco qua! Sì! Sì, esatto, esatto! Li pestiamo? No! Mi sa proprio di no! Mi sa proprio di no! Cioè... Con un blu così la morte può accompagnare solo, ragazzi! Ma quanto cazzo pingate! Jin, non è che... Posso far più di tanti, vabbè sti cazzi dell'Ossian! Però, ecco! Se anziché inseguire Jinx provavi ad ammazzarlo te! È vero, ho nerfato anche il Morell intiamente! Non è lo nerfato, però... Sempre fastidio! Oh, 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 oh! Oh! Io avrei un Rabadon! Sinceramente! Dovrei prendere... Adesso! Eccolo qua! Ok, adesso, ragazzi, possiamo provare la Magica Visage! Finalmente! Anche se Jinx è il problema! Forse è meglio... Meglio la Zonia, mi sa, a sto punto! In realtà, Jinx è l'unica donna di... Però... Eh! Guardate pure la Culling, mamma mia! What? What? Nooo! Puttana di merda! Unlucky... 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 Beaches. Non settare tutte... Oh! Oh, oh! Nooo! Rip! Non so a sto punto se farà meglio No meglio la zonia sapete ragazzi Mi spiace ma Meglio la zonia Ultimamente possiamo farci La zonia l'avete visto raga Mi serve troppo Per i cooldown così Problema Brotto è un bel problema comunque Io ci spero un po' nel loro comeback Perché insomma Un po' affidatini però Jynx 8-1-15 Jynx non si riesce a killare Noi fightiamo male Grande è broma Sempre sul pezzo Liandri Sì però penso ci siano degli oggetti Un po' migliori Tipo la zonia Giusto per citarne uno Desco a prendere questo al volo Ci dovrebbe essere qualcuno a queste parti Ok ho fatto il giro da qua Uddio e Fabie No Ok Molto meglio comunque Eh raga si sente Jynx fiddata però Quello è il problema Oddio ragazzi Stra fiddata Stra fiddata Stra 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 Fiddata Il fatto è che Come scaling c'è Non è che lo scala meglio L'unico problema vabbè Akali è andata a shottare Jynx Faccio così A creato rizzo Jynx è il problema principale Buon divertimento Bella Davy Ok andiamo qui Let's go Bravo Pantheon Bravo Ottimo Vai Timo non c'è nemmeno Vediamo Come stai Davy Non fai tanto proprio male i nemici qua Bello Questo qua Questo qua Ce l'abbiamo qua che ci aspetta Vladine è full AP Vladine è come si gioca Vladine Cioè AP Ok questo è ottimo Ok Ottimo Stavo scherzando ragazzi Sto facendo dei test Non si capisce Spinga gli oggetti dal negozio Tenendo premuto alt Come per qualsiasi altra cosa Kratos Non ho mai usato Da slow mod Vediamo un po' com'è Ovviamente Tieni premuto alt E Clicchi così Convergiamo in mid Convergiamo in mid Non penso rimangano Non penso rimangano Sono a red Ovviamente Ok però c'è solo sei giovani Oh Danni onesti Danni onesti, signori Oh, grazie mate, grazie Voglio un attimo le full armi Dunque Vladimir è 1v9 ragazzi, seriamente No joke No joke, Vladimir è 1v9 come sempre Questa Jinx è fiddatissima Ma Gli ho aperto Gli ho aperto chiunque Proprio, li ho fatto open e dal culo Ok Adesso però devo prendere Alla fine niente visage ragazzi, vado di Di penetrazione Questo è tank, leona pure Quindi c'erano due che ha magic resist Quindi sì, preferisco penetrare Vladimir mi diverte A me diverte un bot ragazzi Per carità all'inizio è molto farm Eccetera, poi vabbè La partita prima che ho fatto 20 kill È stato un caso È stato un caso Come faccio a far vedere i danni Non ho segnato i danni a P che faccio Porro, lasciatelo tutto Zibola, hdclick, show names Dovrebbe vedersi tutto Combat X, vedete Boh Dovrebbe essere qua Vabbè Vabbè 1.800 Premi C Quindi 1v9 Potremmo chiudere la top Tu, can, end Troppo Vabbè Tanchiamo oscillatore mid Vabbè Vabbè La chiudiamo anche così Noi mandiamo una letterina A questi signori Dicendo Tra tre mesi Mi scorte Tra tre mesi Qua arrivano le russi Contro le F Davi se non sbaglio È bellissimo Gianrole È bellissimo Sto 100 1v9 easy Voglio vedere il pene di Ahmed Fate Fatemi vedere il pene di Ahmed Davvero? Allora Boh Do l'onore a Matteo Bravo Tanti soldi signori Nasce il pene Il meme del pene di Ahmed Non me lo ricordo Se la neve viene sotto casa vostra Vaffanculo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio 6.13 Mamma mia 13 morti Il pene di Ahmed Ragazzi Ma 1v9 fa sto champion Non sto scherzando Al di là dello score Ma faccio Ma facevo dei danni Che cioè non stava Né in cielo né in terra Ma avete visto Allora